Noi, uno Eeeh Ma che l'ha detto? giusto in tempo ecco le bolle ma come una sensazione che ti gioca torna a combattere torna a combattere te la sei andata a cercare non è nessuno ripropiamo siamo tantissimo è che è qua siamo qua siamo qua allora dove eravamo rimasti oh tempo subito 5 4 3 2 1 secondo l'obiettivo non 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 Ecco il mio remix! L'urida puttana sottosteroidi! 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 L'urida puttana sottosteroidi!